A Juve e sede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Crotone. 37esima giornata di campionato, domenica 21 maggio, con cerimonia di premiazione per la conquista del 35esimo Scudetto. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve, fino alla fine! E sempre Forza Juventus Club Lizzano Bianconera.